Impariamo a non voltarci dall'altra parte e a batterci sempre per i diritti di tutti, perché un domani quelli negati potrebbero essere i nostri. Con queste parole Ilaria Cucchi si è rivolta ai giovani studenti del liceo scientifico Corradino d'Ascanio di Montesilvano, nell'ambito di uno degli appuntamenti del premio Borsellino tutto l'anno. Durante l'incontro, presenziato anche dall'avvocato Fabio Anselmo e moderato dal docente Graziano Fabrizi, è stato presentato il libro Stefano, una lezione di giustizia, in cui Ilaria Cucchi ha ripercorso le vicende che il 22 ottobre del 2009 portarono alla morte del fratello Stefano, mentre era in stato di arresto per detenzione di stupefacenti. Una storia emblematica di diritti negati, in un giorno, l'8 marzo, in cui si vuol parlare anche dei diritti costantemente negati alle donne. I diritti sono di tutti e devono essere uguali per tutti e per questo dobbiamo batterci e anche rendere giornate particolarmente significative come queste, soprattutto in questi particolari momenti che stiamo vivendo, dei momenti di riflessione, dei momenti più profondi, delle banalità a cui troppo spesso siamo abituati. Oggi siamo qui e la speranza è in quest'aula, piena di ragazzi, in tutte le altre aule di questa scuola, dove da più di un'ora e mezza si sta svolgendo questo incontro in religioso silenzio. Loro sono la speranza per il nostro futuro e per questo bisogna continuare a parlare, a raccontare queste storie, a raccontare dei diritti e di cosa possiamo, ciascuno di noi nel proprio piccolo, fare per battersi affinché i diritti di tutti vengano rispettati. Sui diritti non si scherza, sui diritti non si scenda compromessi e i diritti devono essere uguali per tutti. Se ci pensate Stefano è morto anche di giustizia, oltre che di pregiudizio, oltre che di indifferenza, ma è iniziato a morire in un'aula di tribunale. Ecco, oggi quella persona che doveva essere un semplice morto diventa qualcosa di più, quella storia, quella tragedia, il suo vissuto e poi quello della nostra famiglia entra nelle aule scolastiche e diventa un insegnamento importante per i ragazzi che hanno il difficilissimo compito di rendere questa società un posto migliore in cui crescere e far crescere i propri figli. Studio, analisi, osservazione e critica sono gli strumenti necessari per comprendere appieno i fatti che accadono attorno a noi, ha dichiarato Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi, durante il suo intervento rivolto ai giovani studenti del Dascanio. Francesca e Davide, cosa vi ha insegnato appunto questo incontro? Ci ha insegnato a non essere indifferenti davanti a ingiustizie del genere, anche perché la società futura dipende da noi e quindi è importante che anche noi facciamo la nostra parte. Un messaggio di solidarietà verso coloro che non possono reagire perché il caso di Stefano è un caso in cui la singola persona non poteva reagire e speriamo quindi che in un futuro tutti noi che stiamo ascoltando e tutti quelli che ascolteranno e che stanno questa storia poi collaboreranno al fine di non... che non succedano più cose del genere.